Musica Chi non muore si rivede cari amici sono tornato per sfidare tutti i meteorini, in particolare il nuovo meteorino Stefano. Apriamo pure il televoto, intanto guardiamo le magnifiche previsioni su Crown TV. Previsioni per sabato 4 novembre, al nord in Lombardia, al mattino nuvolosità diffusa su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Salvo locali piogge su Liguria e Friuli, al pomeriggio ancora locali piogge sulla Liguria e sul Friuli, variabilità asciutta altrove. Sul resto d'Italia al mattino nuvolosità irregolare lungo il terreno ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio qualche pioggia su Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove, temperature minime in aumento e massime in calo. Cari amici c'è ancora il sole, farà un po' più freddo, però c'è ancora un po' il sole. Ma ricordatevi che io sono l'unico meteorino su questa televisione. Ma soprattutto ricordatevi che su Crown TV splende sempre il sole. Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche diありがとうございました. Grazie a tutti.